Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Murder Castle, un gioco che mi ha incuriosito veramente molto, soprattutto per il tema e l'argomento trattato, a cura della BGC, che io ringrazio veramente di cuore per avermene offerto una copia per la recensione. Si parla della Chicago di fine 800, dovrebbe essere intorno al 1895, e di un fantomatico personaggio il cui nome d'arte era H. H. Holmes, così si faceva conoscere anche per avere un'identità fittizia e appunto incognita, e si parla di un personaggio che aveva creato una struttura, una mansion molto labirintica, dove teneva chiuse e segregate diverse persone per torturarle e ucciderle. Ricorda un po' Su, alla fin fine, ricorda un po' la storia di Su, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Intanto colgo l'occasione per ringraziare la BGC, che ce ne ha mandato una copia dimostrativa, quella che vedete qui davanti è una copia demo, direttamente dall'America, e se volete fare il Kickstarter, ma tanto lo ricordo alla fine, il Kickstarter è in late pledge, e il gioco dovrebbe arrivare intorno a ottobre o novembre di quest'anno. Gioco da due a sei giocatori, età dai 14 insussi, anche perché il tema trattato è abbastanza forte, della durata dai 45-60 minuti, e direi che come tempi ci siamo. E il vostro scopo, se siete investigatori, è quello di entrare nel suo seminterrato, dove appunto nascondeva e se viziava queste persone, trovare abbastanza informazioni e prove per incastrarlo, ma poi fuggire, scappare, perché potreste a vostra volta essere rinchiusi là sotto e se viziati appunto da questo Holmes, da questo pazzo. Vi faccio vedere un po' cosa c'è dentro la scatola, ricordo, copia dimostrativa, unboxing, la confezione, leggermente rovinata da aver preso una botticina, ripeto, più o meno è l'arte finale, la box finale, comunque ricordatevi che non è un prototipo, ma è una versione dimostrativa, e è comprensiva anche della second story, che praticamente sono espansioni degli stretch goal, che vi consentono di giocare l'avventura principale più un'altra avventura successiva, quindi è un po' come avere due giochi in uno. Il disegno molto bello, guardate anche lo stile appunto, sempre fatto da Olly Carden, e ci fa vedere appunto il murder castle di questo pazzo veramente scellerato. Fate conto che questa non era un'abitazione alla mansion, era veramente una prigione, dove sul lato di sopra lui faceva finta di essere un farmacista, e sul lato di sotto invece negli scantinati andava a incatenare e torturare veramente la gente. La storia di Holmes, cercatela a Chicago del 1890-95, una cosa del genere. Apriamo il rulebook, tra l'altro mi hanno anche mandato una versione scaricata leggermente corretta, comunque bene, molto facile come regole, è spiegato ancora meglio, ve l'ho detto solo in inglese, è la versione italiana, non c'è, io spero che qualcuno lo tradurrà anche, perché è un bel gioco molto interessante, e vedete tutte quante le regole, molto, sembra che ci sia molto da leggere, ma alla fin fine perché è un manuale forse leggermente logorroico, che su alcuni punti ci passa anche due o tre volte, comunque beh, le regole sono molto semplici. Leggete l'introduzione che vi narra tutta la storia e soprattutto questo capitoletto che vi dice chi siete voi, che tra l'altro ci sono anche le vostre raffigurazioni in fondo, che vi fa vedere le varie abilità di ciascun investigatore, e poi vi dicono chi era Holmes. Holmes ovviamente era il nome d'arte, tra virgolette, il nickname. Elementi 2D barra 3D in cartoncino, che ci sono ovviamente tutti quanti i vostri standi, i vostri meeple da muovere, degli investigatori, più quello di Holmes, mazzo di carte dei movimenti di Holmes, più vedete la ruota panoramica dove mettere tutti i cubetti, busta con le plance degli investigatori. Ragazzi, vi ribadisco ancora una volta perché è importante, me l'hanno chiesto giustamente, tra l'altro sono bellini, c'è anche la scanalatura per mettere i cubetti colorati. Quello che vedete potrebbe subire variazioni, è perché questa è una copia dimostrativa. un bel pacco di carte disumano, che sono le carte di gioco, più anche quelle comprensive dell'espansione. Oggetti, carte, vedete, token soprattutto della variante second story, che vi ho fatto vedere prima che c'è scritto sulla scatola, e uno sbotto di tile, tutti qua messi in tutto lato, disegnati veramente da paura, ora ve li faccio vedere. Stendi di plastica, per tenere ovviamente in piedi i vostri personaggi, e sacchettino, con il resto dei cubettini colorati, che sono le prove che potrete trovare dentro al castello di Holmes. E questo foglio che parla della campagna Kickstarter, con tutti gli indirizzi, poi social, e le cose utili che vi potrebbero servire. Vi do un po' di infarinatura e vi faccio un po' vedere come funziona. Date, ovviamente, a ciascun giocatore, una di queste che le fa vedere come funziona il turno. Comunque, nella descrizione, andate a leggere nel libretto, perché ciascuno dei personaggi in gioco ha delle abilità particolari. Ognuno, ovviamente, è più bravo a fare qualcosa, è più carente in qualcos'altro. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, i 5 colori, delle prove che bisogna trovare, ovviamente, per incastrare Holmes. Quindi, queste zone qui, questi cubetti, devono essere tutti pieni. Quando ne avrete 5 per ogni tipo, potrete andare ad incastrare. Quaggiù abbiamo la ruota panoramica, dove dovete pescare sempre dall'altro, vedete, ognuna ha 5 cubettini colorati, e quando la zona invece è vuota, la dovete girare per pescare, ovviamente girandola sempre in senso orario, dalla zona successiva, e andando a pescare da questo sacchettino qui, dovete sempre rinvigorirla, affinché ce ne siano sempre 5. Carte evento, che potete avere in mano per usare quando ve lo dice la carta. Una carta keep, la potete mettere da parte e giocarla quando vi pare. Mentre invece, una carta con scritto play now, quando la trovate, la dovete giocare subito. E sono carte evento che potete giocare fuori anche dal vostro turno. Perché questo è un gioco cooperativo, ma fino a un certo punto, questo è un gioco asimmetrico. Dovete salvarvi la pellaccia, soprattutto dalla figura di Holmes, che vi darà la caccia. E questo è il mazzo di Holmes, per vedere dove lui si muoverà. Quando è il turno di Holmes di muoversi, quindi quando tutti quanti i giocatori non hanno fatto le preparazioni, girerete una di queste carte, e vi dirà come Holmes si muove. Potrà andare via la luce secondo un evento, oppure Holmes si potrebbe spostare in una zona. Vedete, il primo giocatore ha la chiavettina. Il primo giocatore sarà quello che dovrà decidere dove andrà Holmes, perché se girate una carta che vi dice vai da una parte, voi andate da quella parte. Ma se la carta vi dà più opzioni, come potrebbero essere da qui, va nel basement 2, o va nella farmacia, il giocatore corrente decide. E quassù, tutte le carte azioni che potete fare. Il turno di gioco finisce quando tutte quante queste carte che sono qui sono state giocate. In una partita da una a 5 giocatori se ne usano 6. In una partita invece a 6 giocatori che è il massimo, si usano tutte quante. Questa è la zona di partenza. Vedete la farmacia, basement 1, 2, 3, e sono zone che in tutte le partite ci sono sempre messe in gioco all'inizio appunto nel setup. In più, poi ci viene incontro questo bel mucchione qua giù di tile, dove dovrete andare a pescare ovviamente per rinvigore le stanze come in bitrial. Il vostro personaggio uguale inizia nel basement e alla fine dopo aver fatto la vostra missione dovrete scappare nella farmacia quando avrete abbastanza prove da incastrarlo. Se Holmes in un qualsiasi momento finisce nella vostra casella, ovviamente nella sua fase di movimento, automaticamente vi farà uno strike subito al personaggio e ogni volta che subite uno strike da quest'altro sacchetto che vi ho fatto vedere durante l'unboxing andate a pescare un cubettino nero e lo mettete qua su. Banale dirvi che quando il vostro personaggio ha tutti quanti gli strike è fuori dalla partita. In più dovete leggere cosa c'è scritto sotto. Quindi mettendo uno strike qui vuol dire che dovrete scartare uno dei cubetti che avrete qui. Qui uno, qui due, qui due, qui tre. I cubetti che volete tutti di un colore o anche a colore alternati però dovrete scartare il valore che c'è sotto. Le azioni che potete fare in gioco sono descritte su queste carte azione che potrebbero essere muoversi di una stanza cercare perché cercare proprio cose del genere non lo potete fare quando vi pare ma deve essere la carta che ve lo va a dire e tantissime altre azioni. Le carte di solito sono un'azione di spostamento un'azione di esplorazione ovvero vado ad esplorare un'altra stanza ma che o è connessa da una porta qui non posso esplorare qui perché non c'è una porta e di qua nemmeno ma ci viene incontro una carta speciale una carta evento che potete pescare che è la libreria segreta questa la potete mettere dove volete nel caso boh la posso mettere anche qui e a questo punto posso andare a esplorare questa stanza di qua per collegarci una stanza nuova ovviamente deve essere sempre collegata porta a porta ok però in questo caso la porta andrebbe contro un muro ma invece avete messo un passaggio segreto che le collega anche se non erano collegate a porta se no questa stanza qui non ci sarebbe potuta andare ma avesse potuto tranquillamente collegarla qui quindi questa è un'azione di esplorazione che te lo deve dire la carta questa è un'azione di movimento che te lo deve dire la carta e poi c'è un'azione di indagine e di raccolta per ogni stanza quando entrate in una nuova stanza vedete che c'è un numerino sulla cassaforte e voi dovete andare a prendere dalla ruota panoramica un cubetto di qualsiasi colore e lo dovete mettere su questa casella per il valore che c'è qui ad esempio 1 magari se un personaggio andasse qui magari se il personaggio fosse arrivato qua giù ce ne sarebbero due nella zona scoperta dunque qui quando la ruota finisce tutti quanti i suoi cubettini la dovete girare quindi i nuovi cubetti che arriveranno in gioco adesso pescabili da tutti i giocatori saranno questi qua e questa zona qui dovrà ovviamente essere rinfoltita andando a pescare direttamente dalla bustina quando arrivate in una zona e avete un'azione per prendere della roba quindi per raccogliere oggetti tipo questa qui che ci dice collezionare prove e ora vi faccio vedere la meccanica bellina voi potete collezionare le prove ne collezionate una soltanto o in caso il giocatore attivo che l'ha giocata ne può collezionare due quindi nel caso mettiamo lui fosse giocatore attivo prende questa prova gialla e questa prova blu vi ricordo che le deve completare tutte quante e ogni volta che becca uno strike deve andare a scartare qualcosa lo strike lo becchi quando il movimento fa finire Holmes nella tua casella quando si gioca una carta il giocatore attivo che la va a giocare può scegliere di fare sia l'azione sopra che l'azione sotto ve ne faccio vedere una un pochino più semplice sempre partendo da qui gioco questa se ne gioca una ovviamente al giocatore sempre andare a girare e cosa vi dice di fare muoviti di una stanza come vedete quindi lui si muoverebbe di una stanza però oltre ad usare questo potere qui insomma della carta questa azione può usare anche quella sotto muoviti di due stanze quindi potrebbe fare la prima e la seconda sotto quindi lui si è mosso di tre stanze quando usate una carta azione tutti gli altri giocatori la usano tutti automaticamente quindi ora ve li lascio stesi per terra però se ci fosse stato un altro personaggio qui possono usare soltanto l'azione superiore quindi sarebbe andato qui e lei spostandosi da qui sarebbe andata qui quindi quando giocate una carta tutti ne beneficiano perché ve l'ho detto è un gioco cooperativo simmetrico quindi anche raccogliere prove te ne raccoglie due ma quegli altri ne raccolgono una quindi automaticamente quando giocate un'azione gli altri si possono muovere direttamente però la cosa bella è che il giocatore attivo che l'ha giocata invece può usare anche l'azione bonus quindi il giocatore attivo che l'ha usata avrà sicuramente più azioni rispetto agli altri però anche gli altri ne arriveranno di conseguenza ci vengono poi incontro carte vedete c'è scritto qua giù in fondo c'è un bollino seconda storia che queste qui sono carte che invece vanno utilizzate appunto nell'espansione che c'era dentro nel kickstarter e sono tutte quante carte aggiuntive che ci danno vari nuovi obiettivi quindi il fulcro di questo gioco è andare poi ovviamente ci sono regole in più è molto regole in più perché addirittura c'è la possibilità anche di botole per andare nei sotterranei perché poi questo sotterraneo è organizzato in più livelli cioè potrete anche scendere vedete c'è una scala che vi porta giù dalla farmacia al basement però potete anche appunto spostarvi tramite botole e il succo del gioco è che voi dovete riuscire a trovare tante prove da incastrarlo non beccarlo mai quando va in giro perché sennò ovviamente vi falli strike e arriva a uccidervi e poi dovete riuscire a scappare perché c'è una remota possibilità di rimanere rinchiusi dentro e che anche voi diventiate delle vittime sacrificali del pazzo Holmes quindi dovete scappare quando avrete tutte le prove nella farmacia ovviamente non ci potete andare a piedi perché è chiuso il basement c'è un evento particolare che ti fa tornare nella farmacia e a quel punto è vinto la partita non si vince tutti insieme in questo gioco il primo che riesce a trovare tutte quante le prove scappa ha vinto la partita e quegli altri buona rimangono lì dentro quindi un gioco cooperativo ma fino a un certo punto le carte evento come vi dicevo prima che sono queste carte qua giù le potete invece usare quando c'è scritto play now subito oppure keep le potete tenere per usarle quando vi pare quando volete anche come contromossa nel turno di un altro giocatore detto in conclusione il gioco è molto semplice mi ha ricordato due giochi in particolare il primo col fatto di questo matto serial killer che gira e vi attacca e fa lo strike o un strike mi ricorda un po' otty strike e quindi uno dei giochi che secondo me da cui ha preso ispirazione è se vogliamo camp grizzly un gioco secondo me bellissimo anche quello cooperativo ma a volte anche asimmetrico perché devi pensare sia a sopravvivere appunto soprattutto a salvarti la pellaccia ma anche a collaborare con tutti gli altri investigatori che sono con te ed il secondo gioco che mi ha ricordato è bitrial at the house on the hill per il fatto che la struttura si costruisce volta per volta allora il gioco secondo me è una buona rigiocabilità è molto interessante è cooperativo fino a un certo punto ma poi comunque ve l'ho detto dovete giocare a salvarvi la pellaccia e secondo me vi può tenere impegnati al tavolo per diverso tempo sicuramente non è un gioco che avrà una longevità assurda però ogni partita è sempre differente perché possono capitare eventi differenti può capitare di risolvere prima il caso trovando prove ma anche la stessa disposizione dettagli di gioco quindi del seminterrato del murder castle di holmes non sarà mai lo stesso quindi anche proprio la mappa cambierà sempre è un bel gioco sicuramente e per me può divertire veramente gli appassionati dell'horror e del thriller se le devo dare un voto le do assolutamente un 8 su 10 meritatissimo vi ricordo che primo link in descrizione il kickstarter è chiuso però c'è un late pledge il late pledge vuol dire che anche chi è arrivato in ritardo il kickstarter chiuso può comunque ancora il gioco è stato finanziato ma può comunque pagare per avere una copia gioco che vi arriverà a casa fino a ottobre dall'america non c'è una versione italiana per ora assolutamente io spero che lo porteranno in Italia e ricordo che i disegni che trovate in questo gioco tutti quanti i disegni le carte anche i tabelloni sono di holly carden secondo link che trovate in descrizione che è la ragazza che se vi ricordate vi avevamo fatto vedere il puzzle appunto macabre mansion che è quella di edgar alampo a tema e questa ragazza ha fatto i disegni per questo gioco quindi primo link in descrizione il late pledge secondo link direttamente il sito di holly carden più tutti i nostri social a seguire fatemi sapere cosa ne pensate alla prossima